l'ultima puntata di questa settimana di Gong viene registrata non in modalità single player ma in coppia però in maniera asincrona perché io e il buon Andrea Sorichetti che è andato per noi a provare Mario e Luigi Fraternauti alla Carica ci troviamo separati l'uno dall'altro perché il story ha avuto qualche linea di febbre e quindi registra da casa sua mentre io parto con un intro puntata tutta dedicata a Nintendo io partirò raccontandovi di una sveglia sì lo so per Fraternauti alla Carica che sembra un gioco assolutamente carino dovete aspettare la seconda parte della puntata ma qui c'è una questione importante da trattare ovvero all'armo e uno dice ma che è all'armo fino a 48 ore fa non esisteva nulla di tutto ciò ma effettivamente qualcosa è capitato ovvero Nintendo completamente dal nulla annuncia un orologio sonoro così viene definito sulla pagina di prodotto italiana è una sveglia interattiva di fatto con un colore rosso e un design per quanto mi riguarda anche abbastanza discutibile nel senso che è una via di mezzo tra una cosa giocattolosa e invece un oggetto più serio al prezzo non esattamente popolare di 99 euro questa cosa viene annunciata inizialmente per gli Stati Uniti e il Canada con la possibilità di acquistare l'oggetto al Nintendo World Store di New York poi la sveglia ovviamente immediatamente viene lanciata anche in Giappone attraverso il Nintendo Store scusate e solo con 24 ore di distanza arriva anche dalle nostre parti dove appunto è disponibile proprio sugli stessi lidi quindi facendo un ordine in digitale poi vi arriva ovviamente l'oggetto fisico che succede che nel frattempo esplode la mania e in Giappone si registrano dei dati di vendita impressionanti tutto esaurito una lotteria per poterla acquistare eccetera eccetera ma prima di una riflessione abbastanza immancabile scendiamo un pochino nel dettaglio e raccontiamo cos'è Nintendo Alarmo si parla di sveglia interattiva perché l'idea è quella di avere un oggetto da posizionare sul comodino specificano nei modi d'uso che funziona idealmente per una persona singola quindi se dormite in coppia in un letto matrimoniale dovete usarla in maniera un po' diversa ma diciamo è pensata per essere utilizzata con un unico utente in un letto singolo e già questo secondo me dice molto però vabbè si seleziona uno dei cinque videogiochi disponibili c'è Mario Odyssey c'è The Legend of Zelda Breath of the Wild c'è Splatoon 3 c'è Pikmin 4 c'è un Ring Fit Adventures completamente random e se collegate la sveglia a internet in futuro saranno disponibili anche degli aggiornamenti gratuiti dedicati ad Animal Crossing e Mario Kart 8 Deluxe in realtà ovviamente questi giochi non sono contenuti fisicamente all'interno della sveglia la sveglia non è un videogioco in sé ma ha dei veri e propri temi che a seconda del titolo che viene scelto reagiscono ai vostri input perché? perché abbiamo parlato di sveglia interattiva nel senso che ci sono dei sensori posizionati sopra ad all'armo che di fatto rilevano il vostro comportamento mentre state dormendo se vi agitate nel sonno se fate delle cose vi accompagnano con degli effetti sonori che sono presi dalle rispettive saghe appunto che avete scelto l'idea poi è quella che quando impostate effettivamente la sveglia suoni un richiamo ovviamente inconfondibile per farvi alzare se siete dei pigroni volete fare la funzione snooze potete rimanere a letto ma sempre di più si alza il volume se scegliete per esempio il tema di Mario Odyssey subentra a un certo punto anche Bowser e attenzione quando vi alzate dal letto finalmente e siete pronti per partire inaugurare una nuova giornata non dovete eseguire il classico movimento di premere la parte superiore della sveglia perché in automatico all'armo si accorge che vi siete svegliati e fa partire un'apposita fanfara che come dire vi da ulteriormente il buongiorno la sveglia è dotata di tutta una serie di sensori e di feature che reagiscono ai vostri movimenti quindi se stiracchiate le braccia se vi rotolate se vi muovete emette di fatto degli effetti sonori ha anche ovviamente tutta una componente visiva legata appunto al tema scelto con degli effetti grafici che compaiono in certi momenti della giornata o comunque in alcune situazioni specifiche e quindi ci sono al lancio 35 sveglie tratte da questi 5 giochi ci sono dei temi ci sono delle cose non è certo venduta ad un prezzo economico contiene anche tra l'altro delle statistiche che registrano tengono traccia un po' del tempo in cui avete dormito eccetera eccetera quanto è stato movimentato il sonno eccetera cose del genere quindi fa anche un po' di funzione diciamo di database e che cosa c'è da dire che ancora una volta Nintendo sul reale come poche altre nel senso che tutti ci aspettavamo un nuovo hardware ma non era questo l'hardware che volevamo dalla grande N se ne esce così togliendo dal cilindro un oggetto che da un lato è anche direi un po' un capolavoro di fanservice dall'altro proprio un'idea che ancora una volta sottolinea quanto poi appassionato sia il pubblico dei fedelissimi della grande N e comunque registra poi dei numeri decisamente importanti a testimonianza però davvero del valore anche un po' iconico delle saghe a disposizione di Nintendo e della capacità di trasformare il videogioco di cui sicuramente Nintendo è un po' anche il simbolo per antonomasia in qualcosa in grado di andare al di là dello schermo e di risultare comunque molto molto appetibile per una fascia di utenza magari non necessariamente hardcore ma sicuramente hardcore nel suo essere fan di qualcosa insomma la cronaca di un successo estemporaneo ma a quanto pare annunciato se la volete in Italia si trova 99 euro il prodotto è già disponibile e quindi nel caso non so cosa si dice buon riposo boh vediamola così questa puntata di Gong insieme ad alcune delle prossime è sponsorizzata da Milan Games Week e Cartoon Mix la fiera che si terrà dal 22 al 24 novembre ovviamente a fiera di Milano Raw torna anche quest'anno round 2 è assolutamente al centro della scena Francesco e io ci occuperemo degli ospiti internazionali lato gaming ci sono Shinji Mikami e tutto il cast di Baldur's Gate 3 nelle figure principali con in particolare Neil Nubon ovvero l'attore che interpreta Astarion saranno presenti nei tre giorni appunto di fiera momenti diversi ovviamente con tutta una serie di panel di interviste che faremo insieme anche al buon Zoltar ci saranno una serie di attività ci sono in firma copie andate assolutamente sul sito a informarvi anche perché la parte pure dedicata diciamo al fumetto è sicuramente ricca e interessante trovate un link in descrizione perché c'è la possibilità di acquistare degli abbonamenti di fare ovviamente le giornate singole oppure di prendersi anche gli ingressi raro epico leggendario per magari incontrare proprio il cast di ospiti internazionali buttate un occhio manca ancora un pochino ma è una fiera che promette molto 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 bene io direi che con questa passo la parola al buon story noi ci sentiamo settimana prossima ciao eccoci qua ciao amici perdonate la voce ancora abbastanza nasale ma mi sto riprendendo da una delle influenze più terrificanti che abbia che abbia che mi abbia colpito negli ultimi anni che mi ha debilitato da morire ma non abbastanza da impedirmi di andare a provare per voi Mario e Luigi Fraternauti alla Carica un evento che si è tenuto a Milano a cui ci ha invitato Nintendo ed è stata la prima anteprima appunto di Fraternauti alla Carica che è il primo capitolo dopo nove anni di silenzio di una serie quella appunto di Mario e Luigi DJ RPG a cui sono anche abbastanza legato nel senso che è una serie che ho apprezzato sempre tantissimo penso per esempio a Superstar Saga a Bowser Inside Story insomma è stata una serie meravigliosa sviluppata da un team super talentuoso come era Alpha Dream che purtroppo però oggi non esiste più la serie infatti è silente da quasi dieci anni da nove anni per la precisione da quel Mario e Luigi Paper Jam Bros del 2015 e oggi torna con un nuovo capitolo un nuovo capitolo che diciamo in questa anteprima mi ha sorpreso perché mi ha colpito molto per il suo mood per la realizzazione che dai primi trailer aveva messo un po' in dubbio un po' tante persone in realtà vi posso dire che a me tutto sommato è piaciuto anche abbastanza convintamente ecco per chi non conoscesse la serie si tratta appunto di una serie di JRPG dedicati ai fratelli Mario e Luigi si tratta diciamo la principale delle caratteristiche del gioco è il suo combat system che chiamiamolo se volete un po' da rhythm game o comunque che si basa molto sulla presenza di QTE a schermo per chi avesse giocato più recentemente magari Sea of Stars ecco prendete quello come modello o meglio Sea of Stars prende a modello Mario e Luigi però comunque il riferimento è quello questo nuovo capitolo diciamo sono riuscito a giocarlo per più o meno un'oretta una prima mezz'ora introduttiva fatta principalmente di tutorial e una seconda parte leggermente più avanzata nel tempo e come vi dicevo mi ha convinto abbastanza perché le basi della serie sono rimaste quelle di sempre quindi sempre quel combat system lì sempre anche quello stile di scrittura che può piacere come non piacere è molto non voglio dire infantile ma è molto giocoso molto bambinesco molto mariesco in realtà quindi diciamo i fan del JRPG maturo potrebbero forse un po' storcere il naso o quantomeno disinteressarsene abbastanza in fretta ma il tono mi ha mi ha proprio conquistato il concept di Fraternauti alla Carica che in realtà è un titolo molto più efficace in inglese perché si chiama Mario e Luigi Brothership si basa proprio su una nave sulla navigazione un po' come se fosse il Wind Waker di Mario e Luigi perdonate il paragone azzardato perché il mondo in cui si ambienta questo capitolo è un mondo fatto ad arcipelago con tante isole che una volta erano diciamo tutte arroccate se vogliamo intorno a un albero che a vederlo mi ha ricordato con un sorriso un po' l'heart tree di Elder Ring l'albero madre di Elder Ring che a un certo punto sfiorisce e lascia proprio disperdere queste isole in giro per questo grande oceano l'albero rinasce su un'isola che è praticamente un'isola nave e infatti l'albero ha la forma di una come si dice di una di una grande vela e Mario e Luigi si ritrovano su questa isola nave a dover solcare i mari e trovare le varie isole sparpagliate in giro per l'oceano bisogna riuscire a ricomporre l'arcipelago e per farlo si utilizza questo cannone che dalla nave madre ci spara verso la terraferma verso le isole si risolve al loro interno tutta una serie di piccoli puzzle di piccole avventure e ogni momento di esplorazione termina con la riconnessione dell'isola all'albero madre a questo albero centrale se non ricordo male si chiama proprio centralbero il gioco si basa sia su questo concept sia in realtà abbastanza inaspettatamente sul concept dell'elettricità quindi bisogna ogni isola si connette all'albero al centralbero grazie a una presa di corrente che unisce l'energia di entrambe le isole l'ho apprezzato molto perché c'è proprio tutto un nuovo sistema di esplorazione perché si passa del tempo sulla nave e a guardare intorno a guardarsi intorno a scandagliare le acque in cerca degli isolotti questo lo si fa cavalcando delle correnti quando si apre la mappa ci si trova di fronte appunto a questa mappa delle correnti e si può attivamente scegliere di passare diciamo da un binario di corrente all'altro che porta in nuove zone e diciamo si segue poi quando si è all'interno di una corrente si segue tendenzialmente un circuito una volta che si decide invece di quando si capisce di aver esplorato tutto si cambia circuito si cambia percorso e a quel punto ci si ritrova in nuove zone quando appunto si trova terraferma vergine da diciamo da colonizzare passatemi il termine ci si spara grazie al cannone della nave su quest'isola e si e la si esplora e si si risolvono quelli che possono essere i problemi dei suoi abitanti in maniera tale da poter raggiungere poi la la presa di corrente da ricongiungere con il centralbero c'è da capire quanto reggerà nel tempo questo questo sistema ma è a me ha convinto è piaciuto molto perché permette queste micro dosi di esplorazioni abbastanza rapide che presentano ogni volta meccaniche diverse o un'estetica diversa dell'isola insomma è un po' un inno alla scoperta molto nintendiano proprio in questo senso poi ho avuto modo di provare il combat system in più fasi del gioco quindi sia in una fase diciamo embrionale iniziale sia in una fase un po' più avanzata e vi posso dire che di base se avete presente se avete già dimistichezza con la serie non ci sono stravolgimenti di sorta si tratta di quel combat system molto basato sui cutie molto basato sulla cooperazione fra i due fratelli protagonisti quindi tanto per fare un esempio si può decidere di fare il classico attacco in salto quindi si salta sulla testa dei nemici ma se lo si fa con Mario premendo il tasto A nel momento giusto si rimbalza indietro appare a schermo il tasto il prompt per fare interagire anche Luigi quindi premendo B e si rilancia Mario con molta forza sul nemico riuscendo così a fare più danni possibile la novità in questo senso dove comunque è un combat system che incorpora al suo interno le abilità fratelli quindi tutte quelle diciamo chiamiamole special o comunque gli attacchi magici di questa di questa serie quelli che consumano punti magia o comunque che consumano il mana la novità sono le proprio le spine le prese di corrente perché è possibile a quanto ci è stato detto non ci è stato fatto provare questo ma ci è stato detto che è possibile craftare delle spine che aggiungono al combattimento delle abilità passive per esempio una di quelle che ho provato permetteva nel caso in cui ci si lanciasse si premesse il tasto dell'attacco al momento giusto quindi ottenendo diciamo una valutazione molto alta sulla precisione quell'attacco si trasformava automaticamente in un piccolo attacco ad aria e quindi faceva dei piccoli danni anche ai nemici attorno a quello a quello che era stato puntato questa cosa cioè queste spine sono temporanee quindi si scaricano hanno un numero di usi massimo di circa dieci battaglie poi si scaricano hanno bisogno di tempo di un tempo di cooldown per ricaricarsi ed essere riutilizzate riabilitate in battaglia c'è da vedere come quale sarà la profondità quante saranno o quante tipologie di abilità passive si potranno ottenere ma è un bel modo per dare del diciamo una spinta extra a un combat system che ripeto a me piace molto perché obbliga a mantenere un certo tipo di attenzione nei confronti di quello che sta succedendo a schermo e non diciamo combattere passivamente durante soprattutto durante le fasi di esplorazione quindi insomma il gioco esce in pubblicazione il 7 novembre ovviamente su switch e sono curioso di vedere come come funzionerà come come si riavvicinerà il pubblico a questa serie che non è mai stata fortunatissima ma che secondo me ha sempre avuto un grande valore io da parte mia posso dirvi che soprattutto il concept narrativo di questo nuovo di questo nuovo capitolo mi ha abbastanza conquistato anche il suo art style che è stupendo ma anche la colonna sonora che in realtà mi è rimasta in testa abbastanza a lungo dopo 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 quest'oretta di prova quindi insomma per ora si tratta di un progetto assolutamente da tenere da tenere di conto da tenere sott'occhio vedremo come andrà una volta raggiunto diciamo il mercato anche per oggi è tutto amici io vi ringrazio vi saluto vi ricordo che come al solito se vi piace il nostro modo di raccontare un po' l'attualità di Videoludica potete ovviamente seguirci qui su Gong ma potete seguirci anche su Instagram sul canale di Round2 soprattutto il venerdì arrivano i Roundup che sono raccolte di notizie le notizie più importanti della settimana anche alcune che magari non vengono trattate non riescono ad arrivare anche qui sul podcast e poi ovviamente tutto il resto Final Round Patreon chi ne ha più rea più ne metta insomma grazie mille ci sentiamo settimana prossima ciao